Gara 1 dell'Euro Formula Open al circuito del Policarare-Casele con Harrison Scott che parte dalla pole position e mantiene la leadership mentre si toccano dietro Tarun Reddy e Christian Han. Nikita Trovitski mantiene la seconda posizione con Fittie che precede Ameia Vadianathan, lotta nel rettifilo del Mistral col contatto tra Lakson e Pronenko e Han, il testa coda che porterà poi Han a perdere posizione, quasi in contatto con la vettura del Theo Martin Motorsport mentre Harrison Scott continua a condurre Ameia Vadianathan e si prende il terzo gradino del podio ai danni del tedesco Jannes Fittie, ma non è finita qui la battaglia perché Eliseo Martinez supererà Alex Karkosic per la quinta posizione assoluta e il terzo gradino del podio tra i rookie, bella battaglia nel finale tra Lakson e Rodovico Laurini e Han, difficilissimo il controllo da parte del brasiliano di Casadrivex che riesce comunque a portare la sua vettura al traguardo, quarto successo su cinque gare per Harrison Scott, dopo il triplet in qualifica il Grand Schlam e il Boker in gara a pole, vittoria, giro veloce, leader dal primo all'ultimo giro, fuga solitaria in vetta al campionato per Scott ed R.P. Motorsport che vincono quattro delle prime cinque gare, vittoria tra i ruchi per Nikita Trolitsky, secondo saluto a concludere il podio Ameia Vadianathan di Casacarni. Gli applausi per Scott che scappa in vetta alla classifica di campionato. Gli applausi per Scott che scappa in vetta alla classifica di campionato per i ruchi 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 per